I profughi deve ancora arrivare ed è chiaro a tutti che non possiamo continuare come prima con porte e finestre aperte. C'è chi parla di milioni di persone che dalla Siria stanno arrivando in Turchia, lo dice il ministro turco, il primo ministro turco, e arriveranno qua. Cosa possiamo fare? Li dobbiamo prendere tutti, li dobbiamo accogliere tutti secondo te? Ce la possiamo fare come Europa a farlo? Io sono abituato a non credere molto a queste previsioni così roboanti, 10 milioni arriveranno. Ma perché? Perché l'ho vista più volte. In Afghanistan poco dopo l'11 settembre e con l'inizio dell'attacco aereo il 7 ottobre del 2001, l'ONU lanciò un appello, ci sono 5 milioni di profughi al confine col Pakistan, andai a vedere, è difficile valutare a occhio i milioni di persone, ma direi che se ce n'era 20 mila erano tanti, che c'erano migliaia di tende vuote. Quest'anno le previsioni di molti istituti di ricerca erano, avremmo avuto 1 milione e 400 mila casi di Ebola, sono stati 25 mila, quindi andrei molto cauto con queste cose. A prescindere da questo, io credo che la domanda non si può porre, dobbiamo o non dobbiamo accettarli. Questi sono esseri umani come noi, che stanno scappando da situazioni di tragedia. Queste immagini bellissime, tra l'altro riconosco molti luoghi per averli attraversati nell'altro senso, io passavo clandestinamente dalla Siria in Kurdistan iracheno e sono veramente commoventi, sono storie di una tristezza, di una disumanità per alcuni aspetti. Vedere col manganello trattare queste persone è una cosa che veramente fa riflettere su qual è il senso della nostra umanità. Io non ho nessun dubbio sul fatto che questo problema è un problema che l'Europa e non solo l'Italia deve affrontare, che non è di facilissima soluzione, anche perché non sarà un problema che si va a esaurire nel giro di qualche mese, ma credo che sia un assoluto dovere, anche perché abbiamo una responsabilità. Andiamo a vedere chi sono queste persone, da dove vengono. In Europa sono arrivate le persone nel 2015, 425 mila persone. Vengono soprattutto dalla Siria, dall'Afghanistan, dalla Somalia, cioè da tre paesi in guerra in cui noi per una ragione o per l'altra non è questo il momento di andare a rimangare le ragioni per cui... Ci abbiamo messo le zampe. Insomma, sono guerre che noi, noi collettivo, diciamo l'Occidente, i paesi ricchi, poi di qua o di là dell'oceano, contavano... E qui tu dici noi portiamo la responsabilità. Eh beh, voglio dire, d'altra parte, insomma, mi pare che ci siano racconti e anche una letteratura straordinaria su cosa successe ai nostri nonni nel nostro paese quando città italiane venivano bombardate. Perché se domani qualcuno, ovviamente, bombardasse la Lombardia, quanta gente scapperebbe banalmente sulle montagne della Bergamasca, in Trentino, cioè fuori dalle città. Ma voglio darvi soltanto un dato. Io non lo sapevo, ma invasione russa a Praga 1968, scusate, invasione russa a Budapest, 1956, scappano in 475 mila vanno in Svizzera, gli ungheresi. Sono gli ungheresi che oggi alzano i muri, sono quelli che si rifugiarono in mezzo milione, in pochissimo tempo, dentro i conflitti della Svizzera che li accolse. Per dire come la storia ci ha riguardato come europei e adesso noi, diciamo, ripercutiamo su qualcuno che arriva da fuori. Purtroppo, la chiamerei, anche se è un'espressione brutta, la fisiologia della guerra. Io ho lavorato in tanti conflitti, non ho mai visto un conflitto senza profughi, senza gente che scappa. E queste conseguenze te le porti dietro per i decenni a venire. Noi ancora oggi abbiamo un centro medico in Sudan, pediatrico, per un campo profughi di circa 400 mila persone. E sono gente che sono scappati dalla guerra civile interna al Sudan, sud contro nord, e dalla guerra in Darfur. E sono lì mescolati. E staranno lì. Ormai staranno lì per sempre, sono lì da 25 anni. Posso chiedere una cosa molto rapidamente, voglio sentire poi Miele Sallusti. Naturalmente per te, immagino, la distinzione tra profughi di guerra e coloro che scappano da situazioni che non sono di guerra propria, ma di fame e di carestia, fa differenza? Oppure no? Ma io ho visto che la guerra va sempre a braccetto, con la povertà, con la fame, con la carestia, con le malattie. La guerra non è una cosa asettica. Non ho mai visto una situazione di guerra in cui la gente è sana, in cui la gente mangia bene, in cui la gente ha da vivere normalmente. Le cose vanno insieme. Cioè il profugo economico, quello che si dice il profugo economico, perché la battaglia politica in Italia è tutta lì, no? Il profugo economico non deve stare da noi. Non basta cambiarsi i nomi, voglio dire. La guerra non è soltanto prendere qualcuno nel mirino e schiacciare il grilletto, è anche togliergli le risorse e le possibilità di vita. La guerra economica è una forma di guerra forse meno eclatante, perché non si vede meno sangue, però c'è, c'è, è famoso. Posso sentire il vostro parere su questo? Io credo di aver visto tra i cittadini europei finalmente un atteggiamento diverso, un atteggiamento umano, di accoglienza, a differenza dell'atteggiamento di molti governi che... Fincischiano. Ricordo che in Italia adesso questo argomento è questione di polemica piuttosto aspra, ma in tempi non sospetti, come si dice, molti anni fa, c'era, se non sbaglio, un dibattito tra ne possiamo buttare fuori di più con la legge Bossi-Fini o con la turco-napolitano. Tanto per dire quanto era trasversale questo atteggiamento gretto di rifiuto, di... E poi sai, mettersi a scegliere... Io, mentre parlava a Sallusti, mi immagino, mi immaginavo il mio mestiere. È vero che un medico che si trova in situazioni dove ci sono tanti feriti e pochi medici deve scegliere. Ovvio. Però se io incomincio a scegliere, ponendomi dei criteri, l'unico criterio che io accetto di porre è... La casualità? No, chi è il più grave. Cioè, chi è quello che in questo momento mi è capitato davanti, ovviamente, è queste casualità, ma chi è il più grave. Se incomincio a dire, beh, io comincio a operare quelli di sinistra o di destra, oppure comincio operare i maschi anziché le femmine, oppure i bambini per cambio a spesa... I cattolici o i musulmani. O i cattolici o i musulmani. Si finisce in un pantano. Anche perché il problema non è una tragedia enorme. Ti immagini, Gino, però voglio chiedere tu che sei vissuto nelle peggiori guerre, sei stato testimone delle guerre più atroci. C'è qualcosa di diverso in questo ISIS? Si può essere pacifisti, come tu sei, orgogliosamente, radicalmente? Ma io non sono pacifista. Io sono contro la guerra, che è una cosa diversa per me. Si può essere contro la guerra all'ISIS? Allora ti faccio questa domanda. Sì, se si è contro la guerra, si deve essere contro la guerra. Io sono stufo di vedere tutti i grandi soloni, strateghi, pontificare su come la risolviamo così o cos'ha, se succede questo, se succede quello, non succede mai quello che dicono. Non succede mai. E le guerre vanno avanti. Noi stiamo andando avanti con una guerra. Prendo, come dire, quella che ha dato origine a quest'ultima ventata, la guerra in Afghanistan. Dura ormai da tre volte la durata del secondo conflitto mondiale. non c'è nessuna prospettiva, così come anche allora non c'era nessun disegno prima, tanto per cambiare. Si fanno sempre le guerre e non c'è il disegno, non si sa neanche dov'è l'Afghanistan. Perché questa era la realtà della conoscenza dell'Afghanistan dai nostri politici. Poi si può dire di un governo o dell'altro, ma non cambia la sostanza. E tutte le volte ci si ostina a credere che questo sia l'unico strumento possibile. Cioè, ci troviamo di fronte a dei cervelli che non hanno nessuna capacità di sviluppo culturale al di là della parola guerra. Loro al problema rispondono così. Cosa mai è questione di quante truppe, quanti uomini, che tipo di mezzi. Ma quella è la risposta. Altro non riescono neanche a immaginare. Io credo che, siccome tra l'altro siamo in una situazione in cui ci sono armi atomiche in giro a disposizione e non sappiamo neanche dove sono tutte, credo che avessero ragione gente che non era deficiente come molti dei nostri politici, ma che era piuttosto intelligente come Albert Einstein o Bertrand Russell o altri grandi scienziati. che già più di 50 anni fa ci dissero guardate che l'unica soluzione è andare verso l'abolizione della guerra. Esattamente come qualche anno in più, nei secoli scorsi, si è abolita la schiavitù. Sembrava un'utopia? Beh, oggi non lo è più, anche se persistono altri modi di schiavitù. Però l'Isis si espande, Gino. L'Isis si espande, è una bestia diversa dalle altre. Ma tutte sono bestie diverse. È ancora più aggressivo, non ti sembra questo? I talebani, come sono stati dipinti per anni? Ui, mostri. Adesso in Afghanistan, chi sta combattendo l'Isis? I talebani. Quindi, attenzione, prima di cominciare con questo è l'amico, quell'ennemico, noi aiutiamo quel governo, armiamo quell'altro. Questa qui è la deficienza totale della politica. Di non capire che la violenza genera automaticamente violenza, se non subito la prepara e arriverà. L'Isis. Ma, voglio dire, nei territori controllati dall'Isis esistono fabbriche di armi? Gliele mandiamo noi. Eh, le abbiamo vendute noi. O regalate. E allora, perché non si ragiona di quello? Invece che andare tutte le volte a cercare di fare la pelle al tiranno di turno, che peraltro era il nostro amico fino al giorno prima e che spesso tornerà ad essere l'amico anche il giorno dopo. Io non credo che si vada da nessuna parte. Paolo Mieli, cosa vuoi dirci una cosa, diciamo, ultima che riguarda anche quello che farete voi, per esempio, in Libia, no? Beh, in Libia noi stiamo lavorando da mesi per costruire un progetto. Ci andrete voi, insomma. Non si sa se ci va qualche forza militare. Tra l'emergenza si ci va. Noi ci siamo già. Abbiamo già fatto delle distribuzioni di medicinali. Cercando di farle in modo bilanciato nelle zone sotto il controllo di Tripoli, sotto il controllo di Tobruk, a Misurata. Abbiamo parlato con molte persone. E tra una settimana apriamo un ospedale. E lo apriamo dove? A pochi chilometri da Derna, città sotto il controllo del Califato. E dall'altra parte c'è Albaida, città invece fedele al governo di Tobruk. L'opriamo lì in mezzo. Un ospedale aperto ai feriti, tutti, senza discriminazione. Cureresti un terrorista dell'ISIS? Sicuramente. Ma cos'è, un medico adesso si mette a dire, no a te non ti curo perché mi stai antipatico, perché hai votato Berlusconi o perché hai votato Renzi? È il discorso che facevi prima. No, durante la seconda guerra mondiale si curavano i nazisti, eh ragazzi. Noi se non facciamo... Cioè, se capita... Il paragone è calzante. L'idea di curare... Perché voi ci hanno accusato a volte qualcuno in Afghanistan, afgano. Di curare i talibani. Ci sono i nemici. Ci fu una polemica su questo. Fermi, saranno nemici. E poi... Aprire un ospedale in Libia sia un segnale semplicemente di tipo diverso, che non pensare se andiamo con gli scarponi, piuttosto che con le canoe, piuttosto che a bombardare in 3, in 27. Allora ricordiamo che Emergence, oltre che in Italia, è in Iraq, in Afghanistan, in Sudan, in Repubblica Centroafricana, in Sierra Leone e anche in Libia. Voglio farvi ascoltare...